Porca miseria, vai 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 Ormai è andato, è andato, è andato Mortos, allontanati Ah 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 Jeffrein, se non mi dici le cose, io non le so ste cose La prima volta che vengo nel land io Che bello, anch'io Ok, prendito delle esperienze Non entrare lì dentro Non entro lì dentro Se entri dentro, ritorni a casa Un po' di livelli Ok Dato che ero a zero Se entri dentro, ritorni a casa Noi non dobbiamo andare lì dentro Ok Sì, capo In quel punto laggiù, lo vedi? Sì, capo Questo qua, questo qua Sì, ok Ok Lì ci fa andare nella zona Porca miseria, comunque Ah, sai che l'ho provato col tridente a lanciargielo? Effettivamente, non ci ho pensato Io non l'ho voluto fare perché domani mai mi si rompe Cade nel vuoto Esatto E cosa volevo dirti Jeffrein Come le fai male queste scale Ti levi Che cazzo vuoi? Lascia fare a capomastro Ma che cazzo vuoi? Levati dalle palle Levati dalle palle che non c'è capito fare le scale Deve arrivare là in cima Ma non c'è capito fare le scale Poi per entrare... Uh, no cazzo Ci servono delle enderpearl per entrarci Vabbè Sto drago non è stato nulla di speciale Essendo così bardati Poi sicuramente su minecraft di base Potrebbe essere problematica Sì, a meno che non ti bardi come siamo adesso Quindi devi incantare l'arma Eh, appunto Devi incantare le armi Uh, madonna c'è qualcuno qua da me È giusto qualcuno È anche qua da me tranquilla Sono in compagnia anch'io Grazie Cagate la roba Uh, datemi enderman Se mi ricordo quanto male mi facevano sti cazzo di enderman Quando ero in survival Invece adesso bardati così Ti fanno proprio una pippa Ti fanno Forza Perché è un altro tipo di survival Ok, dopo un po' di tempo abbiamo preso un bel po' di perle Siamo stati qua a prenderne un po' E quindi continuiamo a fare la scaletta Io la faccio Faccio Ma lo shushu? Lo shushu cosa? Lo shulker? Lo shushu? Sì, si chiamerà shushu Eh, dove stiamo andando? Lo troveremo Ok, perché dobbiamo prendere una box E a parte di shulker Anche i fiori Lo stiamo superando, eh Vabbè, poi facciamo la chiocciolina Sì, io sto stato rinforzando quello che stai facendo a te Quindi Sto rinforzando Sì Iniziamo a fare la curva qua Io sto, mi sto guardando i piedi Mi sto guardando Posso guardarmi i piedi Se poi ogni mentre che guardi i piedi ci sono anche gli ender Non ci posso fare niente Tu fanne uno Lo faccio io al secondo Vabbè, fai qui Eh sì, dobbiamo andare lì Aspetta, devo girare ancora Ok, adesso Fai un bel Ok Sino qua intorno Madonna Ora Devi lanciare una ender pearl dentro quel buco Vedi qualcosa lì? Una ender pearl? Sì Con che tasto si lancia? Tasto destro Sì Lanciala, fai prima tu Lancio Ok, si è entrato Ok Ok, siamo da un'altra parte che si sta renderizzando pianino Esatto Quindi guarda un attimo per te Oh, madonna quanti andermen là giù Oh, madonna Non guardarli, non guardarli Guardali velocemente Guarda là giù L'ho visto, l'ho visto Hai visto quel ticcazzazione? Eh sì, perché questa è la terra degli ender Quello lì Quello lì è il comitato mamme Si li guardi si incazzano Eh ma mi sa che dobbiamo andare dal comitato mamme Oh no, non dal comitato mamme Perché scusa? Guarda anche lassù Guarda anche lassù che sono Perché dobbiamo andare verso di loro Perché scusami, dammi le coordinazzole Allora, hai ragione anche se Va bene Toggo un attimino in F3 Ah, poi dobbiamo arrivare per forza qua, eh Dobbiamo ritorno per forza qua Ce l'hai delle torce? Una Allora, niente Facciamo così Torniamo un attimo a casa Un'attircina qua Torniamo un attimo a casa Così ci prendiamo No, no, no Per forza Dobbiamo prendere le torce Ce le facciamo Con cosa? Allora Torniamo a casa Ci prendiamo le torce Va bene E riprendiamo più blocchi Va bene Ok, dai Andiamo Andiamo avanti Ok Ok Allora Tu sei Miss Torcio O sono io Miss Torcio Io ho un bel po' di Pietrisco Se vuoi costruire tu il Pietrisco Se vuoi te lo passo Faccio l'inventario umano Come preferisci tu? Preferisci fare il Pietrisco o no? Ma gli Enderman si sono tutti spostati Da dove stiamo andando bene Muoviti dai Veloce Veloce Che non ci sono più gli Enderman Dobbiamo cadere Dobbiamo cadere Perché? Perché non riesco a fare una scala La faccio da qua Che scala? Scusami Per tornare su Da giù dove? Eh vabbè ma vado dritto adesso Ok vado dritto io Tu fai la scala Siamo in due Io faccio tanto qua Scusami eh Già che siamo in due Spartiamoci il lavoro da due Ho sbaglio Ok Allora Ho sbagliato Mettiamo qualche torcia Per far capire Ma se tieni premuto Vai veloce Sì ma fai attenzione Maverick Perché Sto tenendo premuto Control Hai sbagliato ma facendo giusto Perché mi servivo Il donno c'è una paura di cadere Ok Eh vaffanculo Te a casa vuoi Non ti guardo Guarda Ok Non si Allora io faccio una bella cosa I jack leggings Me li tolgo Thank you No 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 Perché hai cagato Il pietrisco Che stava accendo O me l'hai cagato tu il pietrisco No Però si è cagato da solo Perché hai cagato il pietrisco Sto deficiente Va bene ok Mi sono tolti i jack leggings Ok Ok Allora f3 Eh No è sempre zitto Eh 30 Dobbiamo andare ancora in là Ma non c'è niente di là No però aspetta La x sta salendo di qua Adesso Perché sali di qua Ah perché stava facendo sia z Che x prima Ma perché io La x adesso Io non vedo niente Io vedo solo buio Toward positive x Dritto per dritto Di qua Dobbiamo arrivare a 50 Sì ma sto stronzo Mi ha rotto le palle E la z La z Siamo a meno 1027 Quindi sta diminuendo Comunque andando Dove stai andando tu Adesso Per come andiamo così Non cambierà di niente Ok Ok Perché mentre venivamo in qua Stava diminuendo anche la z Ok ok Quindi dobbiamo anche andare verso Verso destra Io andrei verso Guarda verso qualcosa Là in fondo E poi andrei dritto Perché almeno abbiamo un punto Di riferimento Quello grosso Ok Quindi io tornerai un attimo indietro Forse farei quella parte O andiamo dritti Ma no andiamo Andiamo per di qua Vai dritto Dici che Ok Che cazzo sei ma veri che non Quasi duecento Chorus Bastano Allora aspetta No non è questo libro È questo libro Allora Me ne servivano 50 più 4 fiori Quindi duecento Penso di sì Piuttosto torniamo Ok Piuttosto si torna Ora Andiamo di là Vieni vieni Che sta renderizzando qui Ok Aspetta 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 Che stupida Che non sono Metti le lanternine Eh sono stupida Aspetta Che se no perdiamo la strada Sai cosa ne abbiamo pensato A guardare che coordinate Era a casa Ma perché Che senso ha Tanto ho fatto Tutta la torce Nih 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 Però è vero Nih 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 Allora F3 Allora Con la X Siamo arrivati a 250 Eh dobbiamo arrivare Allora Quanto è la Z Dobbiamo andare Dove di là Meno 1160 Siamo Andando più indietro Di prima Ci siamo più indietro Di dove siamo partiti Ma perché siamo Andando a destra Ha detto no Allora la Z Va giù Dritto di là Allora andiamo Verso la Z Andiamo verso la Z Poi andiamo verso la X E la X Va giù Di qua Eccola Madonna Santa Mi sa che dobbiamo ancora Costruire un po' Ma ci siamo Esatto Vediamo un po' Dove ci conviene Costruire Forse da questo A quel quadratino Lì davanti Sì Poi fin da giù Sì Sì Ok Allora aspetta Che mi prendo Il pietrisco Allora Maveriche 64 Intanto che andiamo Ti avverto Allora Lì dentro Ci sono Gli shulker Gli shulker Praticamente cosa sono Sono dei mostrilli Che ti Che si chiudono E Sono a forma di cubo Come E ti attaccano Attaccandoti Loro cosa fanno Praticamente Ti fanno volare in aria Stai attento A dove voli Quindi ti possono buttare A fanculo Esatto Quindi stai attento A dove voli Eh Le ali non ce l'ho ancora Quindi Appunto Piuttosto Appena inizi a volare Cerca di metterti In un punto In cui sopra C'hai un tetto Perché teoricamente Sono dentro la casa Quindi Dai che ci avviciniamo Dai che ci avviciniamo Sento il rumorino Vicino Il rumorino Di caldo Deve mandare sicuramente A un'altra Perché ce ne servono Tantissime Ok Bici lancia la fiamme Bici lancia la fiamme Siamo arrivati Ok 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 Allora troviamo un posto Di entrare Se non troviamo la porta C'è la porta Oh eccoli Sono già l'entrata Sono due Li puoi attaccare Principalmente Quando sono Ok Si teletrasportano anche Non sa Pure E infatti Via 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 Che quello lì Ti fa andare in aria Ok Vabbè adesso siamo dentro a casa Esatto Quello è buono Ecco Attento Sì sì vedo che sono in aria Anch'io Ok Quello è morto Ti ha dato qualcosa Un guscio di schulter Ok bene Ce ne servono Fammi leggere Ce ne servono 18 Eh la madonna Ce ne sono Malla pena due qua Biciotti Non one shot Maverick Ma qualcuno Ha preso La testa del drago O l'uovo di drago No vero Non c'era Nel testa Nel uovo Eh no L'uovo c'era La testa no La testa è qua Ma l'uovo c'era Non l'abbiamo preso Belli stupidi No 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 L'uovo c'è sempre Sono sicuro Sono sicuro Sono passato sotto dove c'era il drago Non per terra Non per terra Ah Ah e allora io non lo so Non so neanche che il drago fa le uova Su Per cazzo ne so che io Il drago fa le uova Il drago femmine Che cazzo ne so io Qualcuno me l'ha detto Non mi pare Allora di qua si deve volare fin di là Di là si va su di sopra No bastardi Non mi colpirete Merde Ok sono qui dentro Sei con me Ciao sto dietro di te Ma pericca Ok dammi sto coso Quante ne hai? Io ne ho due Cinque Cinque Ce ne serve un diciotto Ah bastardi Qui c'è questo coso? Testo destro Pozioni di cura L'ho fatto Pozioni di cura Non me lo fa prendere Mi fa fare niente No 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 Ah volo 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 Sto volando Stai attento ai maverichè Vabbè ma sono sulla nave Sono sulla nave Guarda se sto sulla scala Non succede niente Ok bene Qua dovrebbe esserci O l'elitra O comunque la testa Del 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 drago Cazzo Ma non c'è l'elitra Ma non c'è una minchia Non c'è Ma cosa ci siamo venuti a fare qua? Eh vabbè Diamo prendere sti stronzi Questa testa del drago Che c'è sulla punta? Eh Diamo prendere quella Non farla cadere E come cazzo faccio? Aspetta Ho un'idea Eh brava Stavo per fare anch'io Non farla cadere Eh ble ble Lo dico io Ble ble Ma chi è che fa ble ble Non farmi colpire Da quegli stronzi Probabilmente qualcuno sotto Prendila Aspetta 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 fammi andare Ancora uno avanti Ma cosa la prendo Col piccone? Sì Ok l'ho presa io Va bene Eh per forza Io ci sono pieno Ok Ok la testa di cazzo L'abbiamo presa Poi Si può scendere E quale l'elitra? Forse Oh bello Arrivo Eccola 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 Chiara Ferragni No è quella Non è Uh quanta robina Bella Si ci sono un sacco di spade Maledizione delle gambe Maledizione della scomparsa Ma che minchia è tutta sta roba Senti io butto via un pochino di pietrisco E mi prendo ste qua Maledette Che mi piacciono tantissimo Maledetto Maledetto Ti trovo Ti picchio Comunque è questa La L'elitra Non c'ho spazio Eh manco io Vabbè posso buttare Ok l'ho preso io E litre Comunque c'è scritto Ah l'elitra Praticamente Cosa consiste E litre C'è scritto Vabbè L'elitra L'elitra L'ho detto Te la puoi mettere addosso E volare Cosa Sì ma non qua Finchè c'è il vuoto Non lo facciamo Lo facciamo poi a casa Dove devo metterla È al posto della corazza Lo facciamo a casa No no maveric Lo facciamo a casa Sì Lo facciamo a casa Voglio volare Lo facciamo a casa Sì ma devi Non è come la gay bond Creative Per volare devi Devi saltare Tipo un coso Esatto Esatto Adesso Un paraplegico plano Quanti gusci c'hai? Maveric Quanti gusci c'hai? Hai capito Il paraplegico plano Quanti gusci c'hai? Cinque Io tre Ok ragazzi Dopo un po' di tempo Che siamo stati qua Grazie maveric A cercare Altri 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 shulker Siamo riusciti ad arrivare Alla bellezza di 20 shulker Alla fine C'è nota bene Ok maveric Dobbiamo ritornare dentro Sempre con le enderpearl Ce le hai? Ah sempre qua Sì aspetta Ehm Ah Perché sono sempre qui? Non lo so Dovrebbe funzionare il contrario Adesso Sicura? Sì Sennò come torniamo indietro? Levati Ok Ok io sono No Sì no Sì 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 Ah Perché tutti e due? Cioè ti hai trasportato entrambi? Ma Vabbè Era un po' pagato Ok Vabbè Ciao stronzi Non dirmi Non guardarmi Aspetta un attimo Aspetta un attimo Che qua dovrebbe esserci La testa Eccolo l'uovo Eccolo qua Eccolo qua Aspetta Fammelo vedere che non l'ho mai visto Io l'uovo Eccolo lì Eccolo lì Bello Ok Come si prende? Eh aspetta Come abbiamo preso la testa Del drago Quindi fai un bel Ma non può cadere Ah Sì che può cadere Sì che può cadere Non t'ho guardato Testa di culo Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Non t'ho guardato Stavo facendomi i cazzi miei Te muovi però Eh non L'ho preso? Hai preso? Guarda che a me Guarda che a me non l'ha dato Ah è qua È lì Ma scappa Non abbiamo Il piccone con tocco di velluto Vero? No Efficienza e distruttibilità Perché ci voleva tocco di velluto Cioè Vabbè pazienza Torniamo a casa Poi ritorneremo a prenderlo Vai va bene Ci serve qualcosa sto uovo? È di belle E allora scusa Sei entrato? Sì Ma mi c'è solo le cose di minecraft della fine No a me non me le date Puoi saltarle Come si saltano? Ok Ok allora facciamo Quanta roba che c'è qua Vediamo Pidi 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 pim O tocco di velluto Dai provo a rientrarci Lo provo a riprendere Tanto ci vuole 30 secondi Vuoi riprendere tu? Sì sì Posso aspettarti qui O esplode? No no Aspetta pure lì Va bene intanto vado a decimare gli animali Poveri animali Animali Venite qua che vi Guarda quanti animali Ok Magari era meglio se lasciavo qualcosa nella cesta La madonna quanti polli Quanti porci Pogli o porci? Vabbè non ce n'ho voglia Ci sono sempre con la P Quindi sono uguale No continua a scappare Come si prende? Non so dove colpire con le frecce Io non lo so Non sapevo mai che facesse l'uovo Il bravo Forse con Con Misavo fosse un mammifero Non so come si prende a Maverick Eh vabbè non lo prenderemo Ragazzi diteci come si prende sto minchia di uovo Perché io non ne ho idea Sto minchia di uovo E mi sto anche incazzando Aspetta che lo chiudo Così rimane qua Ho trafitto un lama con le mie tre dente Ok Maverick Aspetta ci metto pure le torcine Ok rientro Eccomi Maverick Ciao Ciao Sono Alessandro Borghese Ciao Allora Già che ci siamo facciamo le missioni Allora lascio tutto Facciamo la cacca Aspetta che ti lascio anche io la rova Allora via 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 Tanto per me ti ha posto tu giusto? Allora prenditi Il polisucco lì Il polisucco Ah la testa di drago L'elitre me lo prendo io grazie La testa di drago non ci serve Non l'ho preso Ma così che l'hai presa Lo shulker box La testa di drago è qui dentro No È lì dentro No c'era già lì Ha rotto il cazzo si stronzi Ammazzano di te per piacere Ma sì tanto sono delle pippe Però aspetta che ho buttato via tutte le frecce Quello potrebbe essere un problema Allora Faccio la chest Poi chest Ma non le avevo presi? Ah no le ho messe dentro Pensavo di averle presi Ok allora chest è dentro Uno e uno Ok Bella Tata shulker Che che? Un cazzo Sì Potà Potà Poi dovrei fare Come si fanno i frutti? Poi dobbiamo battere l'enderlo nel prossimo video Sì E salvare Jamal Sì Nel prossimo video salviamo Jamal Come si fanno i frutti? I frutti di sto cazzo Non è che devi piantare Come le rose del nether Da qui Non lo so Che sto partendo Ma perché allora cosa ci serve? I fiori? No non ho capito cosa ci serve Se mi guardi un attimo Dove sei? Di girarti stai ferma così Ferma così Devi guardare verso le tartarughe Sei pronta? Sì Verso l'infinito E oltre Sei molto bello C'erano questi tre Che mi stavano coprendo un po' La tua visuale Ok allora Dopo tutti i vari casini Del fatto che non sapevo Come si trovasse il fiore di Chorus L'ho cercato Quindi adesso ce l'ho E possiamo fare Le ultime Cose Con loro Allora ho fatto Lì Digo Chorus Poi con lui mi sembra Che dovessi fare Ah Porca troia Devo andare un attimo a casa Ehm Questo Perché ci siamo dimenticate Queste E poi da lui Ci siamo dimenticati Ti sei dimenticata Mi sono dimenticata Hai ragione Maverick Ok Questo ce l'ho Ok vado un attimo a casa Arrivo subito Ci rivediamo qua Ok siamo di nuovo qua Quindi ce ne servono Otto occhi del land Quindi per fare gli occhi del land Servono questi Faccio così Faccio così Ok Maverick E abbiamo preso anche gli otto occhi del land Ehm Mi sa che abbiamo Troppa roba In esubero Però mi sa che abbiamo finito Sai maverick Allora Questo stronzo qua L'abbiamo fatti tutti Ma mi sa di sì Lo vediamo subito Andando nel Nel Andiamo al monumento Monumento Monumentazione Monumentazione Allora ho Enderlord No Sono dai bossi Niente Allora Qua manca Chorus E ce l'ho Chorus Chorus Abbiamo finito qua Chorus andati Finito Agricoltura finita Poi qua Abbiamo già finito Abbiamo già finito qua Ok Qua c'è Enderman Ce l'ho E sugar Abbiamo finito Mavericka Ci manca soltanto l'enderlord Ci manca solo l'enderlord Mi piace Ok Andiamo a fare Sto faccio di averlo No 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 Pensa quanto Pensa quanto Rob abbiamo fatto Bene ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Se fosse così Iscrivetevi Lasciate un like Commentate Nell'eventualità Che comunque Vogliate darci Qualche consiglio Su quello da fare Anche magari Nell'ultimo Ultimissimissimissimo Episodio Magari anche dopo L'enderlord Magari facciamo Esplodere tutto Ma che cazzo Uh Posso farti esplodere Puoi farmi esplodere Si E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Siamo la bella Pisi